Un lungo applauso ha salutato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a suo arrivo in Piazza Santa Croce per assistere ad un convegno su Bettino Ricasoli organizzato dal Comune di Firenze in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Napolitano è stato accolto dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dal Sindaco Matteo Renzi e da altri rappresentanti delle istituzioni. Dopo aver salutato il pubblico, Napolitano è entrato nel Chiostro di Santa Croce accompagnato dal padre Francescano Antonio Di Marco Antonio. Nel Cenacolo gremito il Presidente ha seguito i lavori del convegno che ha voluto ricordare l'11 maggio 1859, quando a 15 giorni dall'insediamento del governo provvisorio della Toscana Bettino Ricasoli diventò primo ministro e per la prima volta il tricolore fu approvato come bandiera ufficiale del Gran Ducato. Il test autentico del decreto è stato ritrovato nell'archio del Comune e il Sindaco Renzi ne ha donato una copia a Napolitano. Il Presidente della Repubblica rimarrà a Firenze per due giorni.